alle mani da re dovrebbe portare un anello è lui è la sua scorta io vorrei abitare nel suo cervello dimmi che è vero è vero ecco tanto impiegano le mie aziende per fatturare 2 milioni di euro non le ha cedute per il conflitto di interessi il mio ruolo politico tornerò al governo 12 miei compagni di classe dicono che devi andare in carcere quanti siete in classe 30 beh i conti tornerò tu ma sai che cosa devi per conoscere a me magari un giorno te lo presenti ma lui 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 sei il più grande venditore che abbia mai conosciuto nella mia vita vendi il sogno del futuro e faremo una festa pazzesca ricorda che questa villa è residenza di stato ci mancherebbe altro giuro di essere fedele alla repubblica di osservarne lealmente la costituzione e le leggi avergli una grande opportunità occuparti degli italiani e non l'hai fatto e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ma te che cosa ti aspettavi di poter essere l'uomo più ricco del paese fare il premier e che anche tutti ti amassero alla follia sì io mi aspettavo proprio questo sì io mi aspettavo